per anni abbiamo raccontato abbiamo narrato di hacker super tecnologici e super competenti super performanti in parte è così sferano attacchi informatici sempre più evoluti ma per gran parte soprattutto in un paese come l'italia i dati di mercato veri di quello che sta accadendo nelle imprese ci raccontano una realtà molto diversa nel 95 per cento dei casi infatti l'hacker più pericoloso per le imprese italiane per tutti noi siamo noi siamo noi stessi ed sono i dipendenti delle aziende perché perché hanno un approccio molto avventato rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali e soprattutto hanno un approccio poco attento rispetto al rischio che è connesso rispetto al digitale e quindi come land service abbiamo organizzato un evento una mattinata in cui discutere di queste tematiche insieme ai nostri vendor partner a capire a ruba caspeschi e vim e insieme a una serie di tecnici del settore che ci aiuteranno a capire come noi system integrator possiamo aiutare voi aziende a proteggervi e in qualche modo a rendervi sicuri da questo da questa debolezza interna ci sarà un intervento molto interessante di giuseppe de zani che è già stato con noi in tante altre occasioni è un consulente della procura della repubblica e delle forze dell'ordine ed è uno dei massimi esperti in italia sulle problematiche di frodi digitali di data breach ci racconterà dei casi reali di aziende che lui segue pendenze legali che ci sono legate proprio alla problematica sia di in qualche modo non compliance del gdpr ma soprattutto quando questa avviene dall'interno dell'azienda che è uno dei problemi in questo momento assolutamente più sentiti e più vivi la location sarà quella della tenuta tenaglia a serra lunga di crea un posto meraviglioso all'interno delle colline del monferrato dove peraltro c'è una cantina molto importante fanno dell'ottimo vino auspicio è che ci sia un dibattito molto utile molto vivo e che serva poi a tutti per portarsi a casa informazioni relazioni e nuove conoscenze Grazie a tutti!